Sono in miglioramento le condizioni di salute del paziente 47enne residente a Trani, risultato positivo al coronavirus e ricoverato attualmente nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Biceglie. Anche i suoi familiari sono in quarantena e godono tutti di buona salute. Si tratta al momento dell'unico caso accertato di contagio nella provincia Bat. Si attende in giornata l'esito di un tampone effettuato ad Andrea su un paziente isolato all'esterno dell'ospedale Bonomo in una delle tende pre-triage. Aldi Miccoli di Barletta intanto è stata allestita presso l'unità operativa di patologia clinica un'apparecchiatura che consente di effettuare in autonomia e sicurezza l'analisi dei tamponi per i casi sospetti di coronavirus. Questa notte invece si è concluso lo spostamento del pronto soccorso dell'ospedale di Biceglie nell'area della cardiologia accanto alla tenda pre-triage. Qui sono stati attivati otto posti letto di nucleo assistenza avanzato di cui due previsti per l'isolamento di casi positivi o fortemente sospetti. Misure di contenimento dell'epidemia che si aggiungono alle prescrizioni previste dal decreto anti-coronavirus emanato dalla Presidenza del Consiglio. E non sta mancando di far discutere lo stop alle lezioni scolastiche per dieci giorni insieme al divieto sino al 3 aprile di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali che comportano l'affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Misure emergenziali che stanno mettendo a dura resistenza l'economia di diversi settori, alimentando polemiche anche sulla loro effettiva utilità. Gli studenti, forse scarsamente informati sui rischi del contagio, sono stati esentati dalle lezioni a scuola ma continuano ad affollare i luoghi abituali dei loro ritrovi. Questa è l'immagine di Piazza Duomo ieri sera ad Andria. Centinaia di ragazzi trascorrono a stretto contatto il loro tempo dedicato allo svago. Una situazione stigmatizzata dal consigliere regionale Sabino Zinni che chiede al commissario prefettizio Tufariello se non sia il caso a questo punto di emanare un'ordinanza comunale che impedisca assembramenti di persone.